no 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 buonasera io spero che lo avete capito perché non è stato rinnovato paolo di bala no perché sennò la faccenda si fa abbastanza lunga e non sono qui a godere come tanti di voi tanti di voi godono quando segna di bala quando fa una giocata e stanno qui a rompere il cazzo a dire ma perché non l'abbiamo rinnovato ma perché abbiamo acquistato tizio acquistato caio questo è il motivo per cui paolo di bala non è stato ritenuto adatto alla juventus dalla società juventus e non è stato rinnovato alla cifra di 9 milioni questo è il motivo si è stirato di nuovo l'ennesimo infortunio come sempre a posto non bisogna gioire in bocca a lui a paolo di bala mi dispiace tantissimo perché giustamente lui non ci può fare nulla su queste cose non ci puoi fare nulla se sei fragile non ci può fare nulla l'abbiamo visto con duca scosta abbiamo visto con tanti giocatori purtroppo non ci si può fare nulla però spero che da oggi poi non cacchiate più il cazzo su paolo di bala ok perché in fin dei conti se vai vedere poi milic ha fatto più gol di di bala perché di bala due tre gol ha fatti sul rigore quindi di tutta sta differenza non c'è perché milic ha gli stessi gol di di bala quindi tutta sta differenza non c'è ok buonanotte a tutti